Perché San Marino ha una nazionale e il Vaticano no? Questa è Chiamarsi Bomber il Podcast e con questa domanda esistenziale vi lascio nelle mani di Francesco Arienzo. In realtà è Carmine Del Grosso che si deve assumere questa responsabilità. Non volevo prendermela, ascoltate. Francesco, possiamo dire conduttore, podcaster, ma anche autore adesso? Di che stai parlando? Sto parlando di qualcosa. Possiamo dire? Dillo, dillo. Hai scritto un libro, sei di corsa perché devi tornare a casa. Non so dove adesso farà le sue cose. Francesco inizierà a parlare del libro nelle varie libri. Sì, ma non è questo il momento, non è la sede giusta immagino. Perdonami, avevo visto queste luci intimiste ed ero già nella presentazione del libro. Invece no, parliamo di calcio anche oggi con questa pausa nazionale che ci ha regalato degli scorci calcistici molto belli. Sì, è vero. A proposito di scorci, io con il campionato fermo di Serie A sono stato a Napoli in questi giorni. Cosa hai visto? Era tipo Rio de Janeiro, quindi una Napoli dipinta... Quindi già dei carri allegorici, pronti? Tipo sì. Li stanno costruendo? C'erano delle 500 vecchie. Sta andando molto di moda questa cosa a Napoli adesso, in questo periodo qua. Stanno prendendo macchine dallo sfascia carrozze. Stanno rimettendo a nuovo? Sì, tutti a tema. Ti lascio immaginare quale sia il tema. Oppure quale sia il colore dominante. C'è per caso una macchina tipo nera a cui hanno fatto la cappotta gialla con la maschera davanti? No, è perché... Ci stanno arrivando. Perché questa maschera di Osiman è un po' ovunque. È vero, è vero. Però, adesso il campionato è fermo, volevo solo un attimo fare questa piccola... Volevo aprire un attimo questa piccola parentesi. Certo, noi ci annoiamo perché stiamo parlando infatti di tutte le cose nostre. Anche io ho pagato una bolletta, guarda. Non c'entra niente. Era comunque attinente. Il mondo calcistico, che c'entra? Invece stavi parlando delle pause nazionali. L'Italia ci ha regalato ancora delle grandi emozioni. Un'Italia che zoppica. Possiamo dire, un'Italia... Ci siamo abituati alla nazionale che non regala emozioni. Zero. Oddio, sì. Beh, sì, sì. Abbiamo perso con l'Inghilterra. Abbiamo perso con l'Inghilterra. Abbiamo vinto 2-0, ma pure facendo fatica con questa, possiamo dire, isola, isoletta, che è Malta. Sì, è vero. Dove... Stavo per dire una cosa, ma mi avrebbero bannato. Che è successo? No, perché a Malta risiedono tutte le società e mi fermo qua. No, possiamo dire betting, di betting. Quindi immagino che lì erano tutte persone che lavoravano nei centri scommessi, credo. che è l'Inghilterra nazionale di Malta. Basta, mi fermo, mi fermo. Mi fermo di qua. Mi fermo di qua, che qua ci bannano. E ci bannano. Ci bannano, poi. Ci bannano. Ma chi ci bannano, tagliano. Ma chi ci bannano, non ci banna nessuno. Ah beh, no. Che è successo? Altre nazionali. La Danimarca sta facendo un bellissimo gioco. Cioè, c'è l'attaccante della Danimarca, Oliund. Oliund, come lo chiami? Come si dice? Tipo Oliocar... Come lo chiami? Oilund, Oilund. Oilund? Ho detto Oliund. Oilund. Ha fatto cinque gol in due partite. Buono, buono. È la versione pro di Vlaovic. A me sembra la versione... È una versione un tantino sotto a quella di Holland. Holland, come si dice? Holland. Holland, va bene. Eh sì, è il nostro Holland. Io sempre lo mio padre con i nomi stranieri, che non riuscivo a chiamare Nedved. Ma non è che... Cioè, io faccio finta di conoscerli, ma secondo me le sto sbagliando pure io. No, no, secondo me no. Sì, assolutamente. Bella cosa... Francesco ha trovato questa... Mi ha fatto vedere una roba bella, che rilanciamo ai nostri ascoltatori. Ma chi? Ah, io ti ho fatto vedere una cosa bella. La maglia della Scozia. Sì, la maglia celebrativa dei 150 anni della Scozia. Bellissimo. La vedere, versione vintage, con... credo il tessuto sia un simil flanella. Sì, esatto. Che puoi utilizzare solo all'aperto a dicembre. O in Scozia, anche ad agosto, tendenzialmente. E non è filo di Scozia questa maglia? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Ma noi, come sempre, prendiamo... cioè, partiamo dalla riva, poi ci troviamo a largo. Sì. E dobbiamo ritornare verso la riva perché c'era una... Sì, pure perché diciamo che di questa pausa nazionale non ce ne frega niente, tendente. Da queste qualificazioni, vabbè, che ce ne frega. Niente. Niente. Però io ci sono rimasto male. Di che cosa? Ed è il cold opening di quest'oggi. Eh. Perché c'è la nazionale di San Marino. Sì. Ma tu sai che all'interno della, diciamo, della fetta, no? All'interno del nostro stivale... Cosa sta succedendo? Stanno squoiando. No, non si sente. Ma non si sente, non si sente. E quindi l'abbiamo sentito solo noi. All'interno dello stivale risiedono più stati, no? Eh beh, sì. C'è San Marino, ma manca la nazionale, Francesco. Eh, lo so. Io ho capito a cosa ti stai riferendo. E adesso è facile, perché non è che chissà quanti stati risiedono... Manca la nazionale Vaticano. Eh, è vero. Questa cosa mi ha sconvolto. Perché? Perché? Stato il Vaticano, piccolissimo, 0,44 chilometri quadrati, diciamo, una piazza. Inaccessibile, quasi. Inaccessibile. Ma c'è la passione per il calcio. Ci sono ben tre campionati di calcio. A me sta cosa, infatti, mi incuriosisce molto. Eh sì. Ci sono due campionati organizzati proprio da... Dalla Lega Vaticana. E poi c'è uno che viene fatto insieme al CSI. Cioè? È il Centro Sportivo Italiano che è una... Ah! Eh, esatto, esatto. Però io vorrei... Perché siccome i campionati sono tre, ce n'è uno però, una sorta di coppa, che è la Clericus Cup. Bella. Dove all'interno giocano tutti i seminaristi e ovviamente sacerdoti. Allora, ok. Nelle prime due, nei primi due campionati... Che si chiamano? Ah, non mi ricordo. Campionato Vaticano e Coppa Vaticana, è Supercoppa. Ce ne sono tre. Supercoppa Vaticana, sempre? Sì, ci sono i dipendenti, quindi i guardie svizzere, chi lavora in ufficio nel Vaticano. Clericus Cup dedicata solo ai sacerdoti e ai seminaristi. E questa è la cosa più interessante. Eh, immagino di sì. Eh sì. Perché? Hanno uno stadio? No. Non hanno uno stadio, giocano un po' fuori San Pietro, diciamo una sorta di campetto dell'oratorio. Quindi vanno all'estero, tipo? Già vanno all'estero, già giocano all'estero. Ma fanno sorridere le regole. Perché non seguono le regole del... Vabbè, avranno le regole che vengono dall'alto. Si può giocare su 60 minuti, quindi come il calcetto. Ah, vabbè, 60 minuti. È permesso... Perché forse 90 è un numero un po' equivoco. Esatto, esatto. 90, già è cercato, stiamo a 60. 60 minuti, quindi come il calcetto. Si può utilizzare solo uno straniero. Per straniero si intende il portiere. Quindi uno che sta fuori dalle mura vaticane, per straniero. Perché nessuno vuole giocare in porta, giustamente. Quindi come il calcetto, vedi? Ah, vedi. Potevano fare i cosiddetti portieri volanti. Però no, vabbè. O a rotazione, ma... Come? O a rotazione. O a rotazione, però no. Hanno deciso di prendere un giocatore fuori dalle mura vaticane. E c'è l'introduzione del cartellino azzurro, che è un cartellino democristiano. Cioè? Cioè, viene espulso solo per 5 minuti. Ma, cioè, 5 minuti è la regola fissa? 5 minuti. Nel senso, se tu fai un fallo, anche entri in Tegel, tipo a crocifisso su qualcuno. Io non ti voglio cacciare a vita, capito? Fai 5 minuti fuori. La penitenza. Ti confessi e rientri. Esatto, ti confessi. Ma se tu dici pure un padre nostro, diventano due e mezzo. Ah, ok, ok, ok. Quindi dipende dal tuo grado di penitenza. Io sarei curiosissimo, comunque, di assistere a una partita di questo campionato. Eh sì, anche perché i top team della Clary Cusca, eh, i nomi. Gli americani martiris. Gli americani? Americani martiris. Americani? Americani, sì. Che vuoi da me? Ah, vabbè. Martiri americani. Non è che glielo ho dato io il nome, te la pigli con me. No, vabbè, insomma, esistono martiri americani? Penso di sì, penso che sono degli americani che lavorano là e che hanno detto ma chiamiamoci martiri americani. Ah, vabbè. Comunque, americani martiris. Ok. Verbo incarnato e redemptoris mater. Sembrano delle tracce dei Metallica. sempre un nuovo album di una rock metal band. Sì, 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 è vero. Vedi? E cosa è successo? Che la UEFA chiede una nazionale, perché è stata fatta una nazionale negli anni, che però è una nazionale amatoriale, che ha sfidato la squadra B di San Marino. La nazionale B. Non, ok. Pensa, si possono permettere pure una nazionale A e B, questi qua, e hanno pareggiato. Quindi in realtà... Quanto? Non lo sai. Non lo sappiamo. Non lo sai, c'erano i portieri, sì. C'erano 0-0. 0-0. 0-0. Che schifo. Che schifo. 0-0. Però ci sono tutti gli ingredienti per partecipare ai mondiali, almeno. Dai, Carmine, ma che cosa stai dicendo? Ma scusi, se pareggi col San Marino, il San Marino può andare... Ma il San Marino B, il San Marino A, neppure... Il San Marino A è più scarso. Comunque la UEFA chiede una nazionale, ma il Cardinal Bertone si rifiuta. Ah, giustamente. Cioè, si è rifiutato negli anni. Ma perché questo? Ma tu lo sai perché, no? Vabbè, immagino però... Allora, diciamo che le dichiarazioni del Cardinal Bertone sono molto professionali. Ha tenuto una conferenza stampa, per dirlo? Sì. Sono pure democristiane. Ma c'è una sede dove fanno le conferenze stampa calcistiche? Sì, a San Pietro le fanno. Ok. Non dalla stessa finestra, immagino di no? No, no, no. Nella piazza, nella piazza allestiscono un banchetto così, ci sono delle suori dietro ferme. Vabbè, giusto, perché deve essere tutta bene. Non c'è la nazionale femminile, giusto? No, vabbè, quello no. No, quello sarebbe bello, però. E cosa dice Cardinal Bertone? Ci guarda, noi non vogliamo entrare. Perché? Perché? Perché altrimenti poi diventa business, vogliamo restare amatoriali, perché poi, insomma... Quindi non guadagnano... Nessuno guadagna niente? No, no, tanto è vero che mettono loro la quota di iscrizione. Ah, beh, lo IOR lo metterà. No, partecipa in minima parte. Personalmente? Eh, no, sì. Lo IOR, la banca, tu dici la banca... Sì, mette poco, mette bene. Ma il resto pagano tutto loro. Ok. Con le offerte, insomma. Sempre soldi nostri sono. Sempre soldi nostri. Comunque, qual è la cosa? Qual è la cosa? E tu sai però qual è la vera motivazione, no? Sì, ma già tu voglia dirla. E dovrebbero spostare le messe al venerdì. Questo è il vero problema. Non è detto che però si giochi sempre solo la domenica. Eh sì, ma il weekend c'è sempre. Non è che si gioca di lunedì martedì. Allora adesso giocano di lunedì martedì. Ah, ok. Vabbè, giustamente il weekend è un po' pure di preparazione alla domenica. Arriva il venerdì, sabato, allestisci la... Eh sì. Quindi il mio consiglio, ma lancio un appello. Cardinal Bertone, sposta le messe al venerdì perché vogliamo vedere una nazionale fatta di sacerdoti. anche di Chirichetti, perché no? Con l'Under 21, no? Va bene. Io vorrei vederlo. Va bene. Però, allora, chiusa questa bella parentesi. Chiusa questa bellissima parentesi. Davvero, grazie per... No, figura di figura. Francesco, è anche un mio dovere. Certo, non sarebbe tuo dovere fare dei pronostici, ma tu ci tieni sempre a farli, giusto? Sì, li ho fatti. Hai fatto un pronostico per la nazionale? Sì, avevo detto che contro l'Inghilterra avremmo vinto 2-0. Ho sbagliato il pronostico. Ho preso 2-1. Come al solito, quindi hai indovinato, perché Garmin tende sempre a sbagliare. Però qualcosa l'ho preso. Che cosa hai preso? Il minuto del gol. Che è il quattordicesimo. Sì, ma non ha segnato Gnonto. Non ha segnato Gnonto. Ha segnato Rice. E invece ho preso il gol di Retegui. Hai visto? E quindi... Al 25%. E adesso ti vorrei però a questo punto chiedere il pronostico per Domenica. Perché Domenica c'è una partita abbastanza importante. C'è Napoli-Milan. C'è Napoli-Milan. Vuoi sapere quanto finirà? Stai attento a come parli. Allora, Napoli-Milan. Pronostico 1-1. Ok. Vuoi dire i calciatori che vanno a segno? Segna Leao per il Milan. Che c'è la fantacalcio, va bene. E Ozyman per il Napoli. Ozyman. Non do i minuti perché mi sembra troppo. Quindi... 1-1. Ozyman e Leao. Ok. Voi sapete cosa fare? Ci ritroviamo qui il prossimo martedì. Cioè, il prossimo martedì. Noi ci stiamo martedì, però... E noi ci ritroviamo invece tra pochissimo. Perché questo è il fischio... No! Fin da dove c'è il primo tempo. Adesso c'è la scheda della leggenda. del fantacalcio. Andiamo a confessarci, Francesco. Va bene? Il suo nome è Massimo Marazzina ed è una leggenda del fantacalcio. Detto la Marazza, Conte Max, o Uè Mitico, era l'uomo dei gol pesanti. Un vero e proprio bomber di razza che in Serie A ha vestito maglie come Inter e Roma. Ma anche Foggia, Regina, Samp, Modena, Siena, Bologna e Chievo segnando in totale 26 reti. Ha cambiato infatti ben 10 città in 17 anni. Record di viaggi battuto solo da Baby Kay quando è volata da Milano fino a Hong Kong. Passando per Londra, da Roma e fino a Bangkok. Ma è con il Chievo dei miracoli che arriva la sua benedizione. E non poteva essere altrimenti. Infatti, con la società clivense, segna gol a ripetizione, diventando un acquisto must-have nelle aste di fantacalcio d'inizio anni 2000. Di lui si dice che era un attaccabrighe, ma per noi era solo uno che attaccava l'area e spediva la palla in rete. E comunque non abbiamo nessuna voglia di litigare, ma solo di celebrare il talento di Massimo Marazzina. semplicemente una leggenda del fantacalcio. La scheda su Marazzina, scritta da Daniele Villa e interpretata da Veronica Pinelli. Grande Marazzina. Ma Grande Marazzina, mi ricordo che prendevo sempre questi chewing gum in cui si faceva la raccolta delle figurine. Ah, è vero. Volpi e Poggi che non uscivano mai, Marazzina invece era proprio... Lo davano via come... Come l'adolescenza proprio, via. Sì. Non so perché l'adolescenza si dà via. No, però va via in fretta. Ah, va via in fretta. Ma però no, non era l'esempio giusto, vero? Ma comunque teniamolo, teniamolo. Teniamolo che va bene così. Bomber di giornata, Carmine. Bomber di giornata, ti dico subito che c'è una mia rivincita. La mia teoria... La mia teoria è diventata profetica perché De Zerbi si è squalificato, assistito a due partite del Brighton dalla tribuna e entrambe vinte 4-0 contro il West Ham e 5-0 contro il Grimsby Town. È difficilissima questa squadra da pronunciare. È vero. 4-0 e 5-0. Cioè, pure risultati pesanti, voglio dire. Vabbè, quindi si sta verificando questa migrazione verso la tribuna da parte degli allenatori. Assolutamente, si vede meglio la partita, si gestisce meglio. Sì, la tesi l'abbiamo approfondita già. Non lo so, che la conoscete la Soso. Si parla! C'è uno studio! Le agende degli allenatori hanno questa mia tesi all'interno. Comunque, vabbè, poi un giorno ne parleremo. Invece il tuo bomber di giornata? Allora, il mio bomber di giornata un pensiero per il grandissimo Gianni Minà che non c'è più, scomparso 84 anni, il giornalista, penso, migliore. Sì, assolutamente. Consigliamo, vabbè, non è che consigliamo niente di nuovo. Comunque, Blitz, ci sono ancora le puntate su RaiPlay e su YouTube. Io comunque a casa, per rimanere in tema, diciamo, calcistico, ho la collezione di DVD sulla storia di Diego Armando Maradona curata da Gianni Minà con interviste epiche, con servizi spettacolari, con il suo racconto, insomma. Una collezione che andava con... l'ho fatta con la Gazzetta dello Sport, praticamente. Ah, ok. Una bellissima collezione di DVD e per ricordare poi, vabbè, oltre a questa, una puntata strepitosa di Alta Classe, non c'entra niente con il calcio. Sargio Leone stavi per dire. No. Una puntata su Pino Daniele con Massimo Torisi, ospite. Ed è stata una puntata che ha fatto la storia della televisione italiana. L'agenda di Gianni Minà. L'agenda di Gianni Minà. Da lì proviene l'agenda di Gianni Minà. Oggi sarebbe attuale, ma per me è ancora nel futuro. Vedere le puntate e le interviste di Gianni Minà, per me sono sempre attuali. È vero. Fingerfoot, fingerfoot. Fingerfoot. Andiamo, andiamo, andiamo. Allora, io dico fingerfoot, quindi argomenti da spizzicare. Argomenti da spizzicare, temi non da approfondire. Non da approfondire. Io volevo dire che volevo fare una piccola riflessione su Aviar Zanetti. Ah sì, certo. Che diciamo ha pagato questa scommessa perché lui aveva dichiarato se casomai l'Argentina dovesse vincere i mondiali. Io cambio, taglio di capelli. Eh sì, si vede come l'ha cambiato. Cioè, ma voglio dire, ha spostato il ciuffo, si è passato una mano tra i capelli. Ma che ha fatto? Ha alzato il ciuffo, ma subito dopo, diciamo, quel video che ha fatto, si sarà di nuovo riabbassato il ciuffo. Io mi aspettavo un melone, qualcosa. Sì, vabbè, il melone. Vabbè, troppo, sono stato troppo. Vabbè, vabbè, ho riposto male le aspettative. Non so se il melone è solo una roba che diciamo... Melone a sud. Eh, secondo me. Vabbè, dai, rasato a zero allora. Rasato a zero. Vai, vai, spizzi. È sempre per la nota nostalgica. Quindi avere Zanetti c'è un po' illuso. Torna la Coppa Intercontinentale. Finalmente. Basta sto mondiale per club. No, forse ci sarà ancora. No, ci sarà, sarà pure il clou. La Coppa Intercontinentale, quant'era bella, no? Eh beh. Si sfidava vincitrice della Champions League contro la squadra vincitrice della Coppa Libertadores. Eh sì. Bellissimo. Adesso tornerà forse in una formula un po' rivisitata. Non abbiamo visto ancora il regolamento, però spero sia la Coppa Intercontinentale che tutti ricordiamo. e sempre per la nota nostalgica allora facciamo una petizione per far tornare pure la Coppa delle Coppe. Quella sarebbe bella, davvero. Eh sì. Ricordiamo, era la Coppa giocata, tra l'altro. Perché no, chi magari, chi non è della nostra generazione eppure se la ricorda la Coppa delle Coppe. Eh no, non lo sa. Comunque Coppa delle Coppe e tutte le squadre che vincevano la Coppa della Nazionale. Quindi tipo la Coppa Italia, la Coppa di Spagna e via, si incontravano tutti. Esatto. Bello, facciamo tornare, facciamo questa petizione. fatecelo sapere nei commenti. Quali commenti? Non lo sappiamo, comunque fatecelo sapere se anche voi, anche voi siete della nostra opinione. Sì. E niente, Francesco. Adesso tocca a te quest'oggi. A fare cosa? C'è questo quiz. È il quiz. Grande campione squadra improbabili. Giocatore che difficilmente si ricordano con una maglia. E quindi io ti faccio il quiz. Tu mi devi dire chi è ovviamente il calciatore che ha militato oggi nella Juventus la stagione 1998-99 ben 16 presenze e 3 gol. 98-99. 98-99. Tiene a mente la Juventus. Sì. Ti do degli indizi. Eh. Giustamente. Ha vinto due scarpe d'oro. Sì. un mondiale 98-99 un mondiale un europeo e una Champions League vinta. Chi è? Oh. Per aver vinto è uno che segnava un botto e non ha segnato quindi alla Juventus? È uno che segnava sì. E ti dico una cosa giusto? Vabbè no. Ti diamo un altro indizio. Quando c'è qualche calciatore italiano che ha delle caratteristiche Quindi è italiano? No. Quando c'è qualche calciatore in Italia con delle caratteristiche simili ma pure molto lontane da lui dicono sempre è il italiano. E poi quasi sempre vanno a morire questi calciatori qua. È italiano. E poi mai. Però aspetta se uno ha vinto il mondiale Longilineo se vuoi poi ti aiuto piano piano. Allora scusami mondiale mondiale quindi si ha vinto un mondiale stiamo parlando se il 98-99 ha giocato forse il mondiale l'ha vinto precedentemente a quell'annata. Mi sembra il 94 sì. Quindi il 94 il 94 l'ha vinto il Brasile? No. Dopo. Quello del 98. Ah quello del 98 quindi la Francia? Sì. Eh ci sei. Quindi Francia ci sei. Francia deve essere un attaccante per forza. Vai che forse oggi non dobbiamo impazzire. Io già sto impazzendo. Ci sei attaccante Francia. Attaccante francese. È il italiano dicono sempre e poi quasi mai quasi sempre un flop. E chi era l'attacco nella Francia? Dicevano di questo pure guarda ti do una mano Raffaele Palladino allenatore del Monza dicevano è il italiano. dai che ci sei. L'attaccante della Francia del 98 che ha vinto i mondiali. Ci sei. No là c'era Zitano ma Zitano non è Zitano buttane uno attaccante francese attaccante francese longilinio bella falcata buon dribbling ma perché non mi viene ma perché ce l'hai dai butta un nome e non mi viene non niente devo aprire eh apri guarda questa cosa mi manda in crisi che palle guarda quanto era facile era il T.T. Henry ti ho aiutato dicono sempre è il T. Henry eri italiano ma chi lo dice ma chi sarebbe il T. Henry eri italiano ma chi palladino è il T. Henry eri italiano ma vi prego si è perso gli indizi che dai sono forvianti non è vero Francesco non è vero siamo arrivati alla fine anche oggi sarebbe stato più utile dirmi nessuno mai è come ha giocato va bene lascia io mi attengo a quello che accade nel calcio Francesco ti lascio pensare ti lascio pensare Francesco c'è una settimana di tempo intanto salutiamo tutte le persone che lavorano incessantemente in Italia e a questo podcast da chi partiamo? da chi vuoi da Veronica Pinelli con la sua voce Daniele Villa che scrive insieme a Marco Renzi insieme a Marco Renzi alla selezione di Chiamarsi Bomber l'altra volta ho detto giuria commissione ok la selezione di Chiamarsi Bomber grazie Max alla regia grazie Max alla regia grazie Francesco Arienzo grazie Carmine Delgrosso noi ci vediamo la prossima puntata ascoltateci su Spotify lasciate una piccola recensioncina che ci aiutate a salire a crescere in classifica a crescere vediamo quali ospiti arriveranno vediamo per adesso ci siamo sempre e te Francesco grazie a tutti grazie a tutti